Linee sportive, fiancate scolpite, forte personalità. Il nome, Mercedes classe A. Ebbene sì, la casa di Stoccarda, se voleva stupire il suo pubblico, ci è riuscita. Una delle auto più amate in Italia dopo 15 anni dal primo lancio, torna sotto i riflettori, ma in una nuova veste sportiva e più accattivante. Ora la signora è una due volumi slanciata e dà la forte aerodinamicità. A dispetto della vecchia sorella, un prodotto completamente nuovo, un progetto nato per ridisegnare il segmento delle compatte, che lascia alle spalle oltre un decennio di soddisfazioni e successi nelle vendite. Funzionale, moderna, questa volta anche performante e sofisticata, con degli interni di altissima qualità che aumentano il comfort a guida ed una tecnologia mai vista prima per il segmento. I tre valori più importanti sono il design, la sportività e la tecnologia. Prendiamo di tecnologia, tecnologia per l'infotainment. Quindi per la prima volta al mondo, con il nostro iPhone collegato via Bluetooth, noi possiamo replicare tutte le funzioni del nostro smartphone appunto sul sistema di bordo. Comandabile, con le mani sul volante, in maniera molto sicura e semplice. Tecnologie anche per la sicurezza, sicurezza di serie. Portiamo su classe A tutti i sistemi di sicurezza ormai noti sulle gambe di Mercedes, gambe superiori di Mercedes. Quindi abbiamo l'attention assist che ci segnala quando ci stanchiamo. La prima addirittura è il radar anticolezione, tutto di serie. E poi tecnologia per la riduzione dei consumi e delle emissioni. La piccola di casa diventa un bolide di tecnologia, ma non cambia le abitudini. Propone un'ampia scelta di motorizzazione per le diverse esigenze e gli stili di vita del grande pubblico. Classe A, come ogni stella che si rispetti, sin da oggi partirà alla volta di un tour tutto italiano, per farsi conoscere dagli amanti del marchio. Ordinabile sin da subito, ma negli showroom arriverà a settembre, con prezzi che partono dai 23.000 euro. Grazie a tutti.